Quante sono le versioni dell'opera più famosa di Van Gogh? Simbolo di lealtà e devozione, i girasoli rappresentano per Van Gogh una metafora dei suoi stati d'animo e narrano l'evoluzione della natura e della stessa vita umana. Sono stati rappresentati dall'artista in ogni fase dello sviluppo del fiore che ha un ciclo di vita definito e che, all'interno di una stessa giornata, segue una trasformazione vicina a quella del trascorrere del tempo per noi esseri umani. Sette varianti, quattro dipinte nell'agosto del 1888 in attesa dell'arrivo ad Arles dell'amico Gauguin per arredare proprio la sua camera da letto. Si pensa che Van Gogh abbia ricevuto in dono i fiori dal giardiniere Scalia. L'idea è quella, a causa del cattivo tempo, di realizzare un ritratto ma non vedendo arrivare il suo modello Van Gogh decide di dedicarsi ad una natura morta e la fortuna di queste opere è tutta dovuta ad un personaggio femminile, Johanna Van Gogh, moglie del fratello Tio e promotrice del lavoro di Vincent dopo la morte del marito e dello stesso artista.